veniamo ai due gironi della terza categoria per quanto riguarda la delegazione di catanzaro nel girone c il conflenti corona l'inseguimento alle scale burro e scavalca anche il marca che da un po di tempo non sanno più vincere addirittura tre sconfitte e due pareggi per marca nelle ultime cinque partite le scale burro oggi si è fatto battere in casa dal per vedere calcio anche se si trattava di un mezzo incontro di alta classifica e quindi ha avuto la meglio la squadra in trasferta per vedere che a questo punto si riporta in quinta posizione insieme con il mac h3 in questo caso a un punto soltanto il distacco dalla marca il conflenti come dicevamo con un secco 6 a 1 sullo giri palco va a portarsi in prima posizione agganciando appunto le scale burro per il resto della giornata segnaliamo il 2 a 0 del cortale sulla marca appunto che come dicevamo non sa più vincere è il 5 a 1 del curinga sul serra stretta 2 a 0 anche del longobar di calcio sull'atletico ferroletto